I miei occhi si sono abituati a vedere con pochissima luce, e quel sottile bagliore che entra dagli spirali di quell'apertura, unico collegamento con il resto del mondo, è per me sufficiente. Ricordo quando entrai qui, impossibile dimenticarlo, la cella aveva tre pareti cieche, i muri e il pavimento di pietra sembravano asciutti, senza umidità, nell'angolo in fondo a destra c'era un buco del pavimento coperto con una pietra pianta, era alta la prima, piegata a terra vi era una coperta pesante, mi fecero entrare, un sacerdote mi diede la benedizione, e poi un muratore cominciò a innalzare il muro che mi avrebbe imprigionato, con me avevo solo una bibbia, un filare di mattoni, poi il secondo, il terzo, sapevo, sapevo cosa mi aspettava, la sentenza del tribunale era stata chiara, ma in quel momento mi prese in panico, il cuore cominciò a battere freneticamente, mi mancava il fiato, la testa mi girava, Dio, Dio dov'è l'aria? Mi girai dando le spalle alla costruzione del muro, sentivo le lacrime bagnarmi le guance, il respiro sempre più affannoso, chiusi gli occhi, chiusi gli occhi e cominciai a pregare, mai nessuna mia preghiera era stata così profonda, sincera, accorata, poco alla volta ritrovai la calma, in quel momento capì e scoprì che la preghiera poteva diventare un luogo dove c'è la libertà, dove lo spirito si innalza superando le costrizioni della carne, riaprì il muro, il muratore stava incastrando i mattoni nell'ultimo filare e quando anche l'ultimo mattone fu fissato il buio calò, in quel momento mi apparve come un buio totale e piansi, urlai piangendo, urlai per la disperazione e lo spavento, nessuno mi ascoltava, quando smissi di urlare c'erano solo il silenzio e il buio, mi sono abituata al buio, ma il profondo del mio animo credo che non lo accetti ancora, capita di rado, ma a volte mi sveglio nella notte, l'oscurità è assoluta, il cuore batte all'impazzata e penso di essere cieca, una paura profonda mi attanaglia la gola e affannosa...